Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo Campo e oggi parliamo di Mindset NFT. Se ancora non l'hai fatto, se ancora non mi seguo, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Sto mettendo un video ogni due giorni, quindi un giorno sì, un giorno no, già da un po' e continuerò a farlo per ancora molto, molto tempo. Quindi mi raccomando, non perderti tutti i contenuti che faccio, iscriviti quindi al canale, Segui anche la playlist, perché ho creato una playlist in cui praticamente sto mettendo a tutti gli effetti su YouTube un vero e proprio corso gratuito sui NFT, quindi direi che sarebbe il caso di sfruttarlo e quindi vatti a recuperare la playlist per poi vedere tutti i video, ok? Ovviamente ti invito anche a seguirmi sui social, soprattutto Instagram e Twitter, dove posto quotidianamente ovviamente molte più informazioni da virgolette veloci, che ovviamente un video YouTube richiede più tempo per farle arrivare, ok? Quindi mi raccomando, seguimi su Instagram e su Twitter, lascio tutto qui in descrizione, lascio tutti i link utili, quindi dopo vagli a vedere. Quindi, partiamo subito con il video, non perdiamo troppo tempo e vediamo di cosa parliamo oggi. Oggi parliamo, come avete letto dal titolo e anche da qui, di mindset. Perché parliamo di mindset? Mindset è sempre l'argomento, il mio argomento preferito, veramente potrei parlarne di ore, perché penso sia fondamentale e sia la base un po' di tutto, sia del business che della vita in generale e ovviamente anche, ragazzi, specifico sul mondo NFT. Senza mindset non potete andare troppo in avanti, ok? Perché? Adesso ve lo spiego. Il mindset, ok? Il mindset, per chi non lo sapesse, comunque immagino lo sappiate tutti, non è nient'altro che la mentalità, l'atteggiamento mentale con cui, appunto, ti approcci ad un qualcosa. Quindi parliamo del giusto mindset, ovviamente, in questo video per approcciare il mondo NFT. Pensate che io, per raccontarvi un po' quello che ho fatto, il primo progetto NFT in cui sono entrato diversi mesi fa è stato uno scam, quindi mi hanno proprio frega di soldi. Ho speso 800 euro per il primo progetto NFT e li ho persi completamente tutti. Quindi, perché è importante il mindset? Perché se io non avessi avuto un mindset che ho sviluppato con gli anni, eccetera, eccetera, di successo che, appunto, comprendeva il fallimento momentaneo, che comprendeva, ovviamente, la non informazione e quindi la crescita, comprendeva tutto questo, probabilmente avrei abbandonato il mondo NFT, avrei detto che tutti gli NFT sono uno scam, avrei detto che gli NFT fanno solo perdere soldi, sono tutte truffe, avrei smesso, appunto, di comprare, ovviamente, NFT e non sarei dove sono ora che, invece, mi reputo comunque un, diciamo, una persona che ne sa abbastanza di NFT. Ho diversi NFT, ho guadagnato diverse decine di migliaia di euro con gli NFT. Sto lavorando a diversi progetti di Torrile Quinte, sto lavorando anche ad un mio progetto NFT, questo vi lascio come piccolo spoiler qui, poi nei prossimi video sicuramente avremo modo di parlarne meglio. Quindi, tutto questo che, o sto collaborando con persone incredibili, sto arrivando a persone assurde che prima non avrei mai immaginato di poter arrivare, pensate che sono addirittura arrivato a persone di cui io ho letto libri per iniziare il mio percorso online, nel business online, quindi roba che per me, a 22 anni, comunque, mi ha fatto esplodere un po' il cervello. Quindi, vabbè, questo per dirvi che non ci sarebbe stato tutto questo se non avessi avuto il giusto mindset all'inizio, che mi ha dato subito una bella batossa, una bella sbrancata qui, con il primo progetto in cui sono entrato. Quindi, come si costruisce un giusto mindset? Un giusto mindset si costruisce, ovviamente, con il tempo. Però, quello che voglio farvi capire è darvi, in questo video della consapevolezza, ok, sul mondo NFT, su quello che davvero è il mondo NFT, di conseguenza, costruite voi stessi, ok, allenate la vostra mente voi stessi per approcciare il mondo NFT, in questo caso, nel modo in cui vi dico. Quindi, il mondo NFT, ragazzi, alla fine, se non sapete cosa sono gli NFT, ripeto, guardate i video precedenti in cui lo spiego nel dettaglio, c'è un video in cui spiego solo quello. Quindi, il mondo NFT, in questo momento storico, ok, quindi inizio 2022, non ci diciamo cavolate, è in completo overhype, ok? Quindi, ci sono troppe persone che comprano NFT senza neanche sapere cosa sono, senza neanche sapere cosa fosse Metamask il giorno prima, il giorno dopo invece comprano per NFT, inserono a pagare Ethereum perché tutto sembra l'opportunità della vita, perché tutto sembra che cresca e diventiate milionari con quel singolo NFT. Ecco, sappiate che non è assolutamente così nella maggior parte dell'Instagram, nella maggior parte dei casi. Quindi, abbiate un approccio più concreto, quindi non andate a sognare, perché quello che vi dico, citando anche delle parole di una persona che stimo molto la NFT, che è Alex Becker, dice, è importante, ok, sognare e ovviamente essere tutti bullish sul lungo termine. Bullish vuol dire che il mercato, lo vediamo tutti, a rialzo sul lungo termine, è importante questa cosa, ok? Sia sulle cripto, sia sugli NFT, va benissimo, tutti ci crediamo. Io anche ho fatto appunto un video in cui spiego le reali applicazioni degli NFT, perché secondo me è una reale rivoluzione tecnologica, ok, a livello di tecnologia, e sono estremamente bullish, quindi credo estremamente che gli NFT prenderanno piede nei prossimi mesi, nei prossimi anni, veramente in modo importante, ma, vuol dire, è giusto fare questo, ma è anche giusto essere, ok, estremamente pessimistici e realisti, ok, pessimistici, ok, pessimisti, non so come si dice, ok, pessimistici, diciamo pessimistici, no, ok, pessimistici o pessimisti, non so, come non viene come si dice, e realisti su quello che è realmente il mondo al giorno d'oggi, cioè io so, ok, so che il mondo NFT potrà, sicuramente, prenderà valore nel tempo, prenderà appunto molte più persone, ma in questo momento devo essere anche il più possibile pessimista e realista, perché? Perché riconosco che, per esempio, c'è un over-hype, riconosco che ci sono un sacco di persone che vogliono truffarti i soldi, perché sfruttano la, come si dice, sfruttano, diciamo, la non competenza, l'ignoranza delle persone, ok, so tutte queste cose, quindi le tengo in considerazione per rimanere ottimista, rimanere appunto, ovviamente, bullish sul lungo termine, quindi sempre sul discorso dell'adattamento di tante persone che ne prenderanno atto, ma, ovviamente, se non si ha quella, come se fosse, tra virgolette, una sorta di fune con un'ancora che ci tiene giù, quello che succede nell'atto pratico, perché vuoi dire, sì, va bene, ok, ma questo qua cosa succede? Succede che noi, se abbiamo soltanto il sogno, praticamente andiamo a perdere tutti i nostri soldi, perché è questo, perché ogni cosa ci sembra l'opportunità della vita, perché ogni cosa è hypata all'estremo, e quindi tutti vogliono entrarci, dicono, no, non posso rimanere fuori, compro questo, compro quell'altro, sì, ma compro questo così mi fa accedere a quell'altro progetto, compro questo così accedo a quella cosa, ok, quindi iniziamo a fare questa cosa e perdiamo solo soldi. Perché questo? Perché il mondo NFT, questo l'ho visto sulla mia pelle, ti dà anche una sorta di dipendenza, ok, essendo molto divertente, per la maggior parte dei casi, comunque adesso a livello tecnologico, diciamo, ok, la rivoluzione della tecnologia, però il primo modo solitamente per attuare una rivoluzione è quella di far divertire un po', cioè, per entrare nel mondo, nelle case di tutti quanti, nella quotidianità di tutti quanti, il primo passo è solitamente attraverso il divertimento, quindi tu fai divertire le persone attraverso questa rivoluzione tecnologica, in questo caso, per poi far riprendere sempre più la confidenza con il prodotto, ok? Quindi questo qua, a livello generale, non soltanto con gli NFT, quindi anche con gli NFT è così. Io mi sono ritrovato più volte, per esempio, a iniziare a comprare NFT di una collezione e veramente non riuscire più a smettere, perché avevo tanto gli Ethereum nel wallet, ok? Quindi per comprare gli NFT servono gli Ethereum, ok? Quindi in questo caso, vabbè, nella blockchain Ethereum, le altre magari ne parliamo in un altro video. Quindi avevo Ethereum nel wallet, il progetto mi piaceva e quindi pensavo che salisse, che credo tutt'ora, insomma, che salga e continuavo a comprare. Dopodiché mi sono ritrovato ad avere, per esempio, otto pezzi di NFT, aver speso due Ethereum praticamente, quindi circa 6.000 dollari, e così non riuscivo a fermarmi, ok? So che sembra una cosa assurda, ma si va anche tanto poi nel collezionismo, nel prendere il pezzo più raro, nell'avere, diciamo, quella cosa più bella degli altri, nell'avere più pezzi rispetto agli altri. Cioè, capito, quindi entrate in questo meccanismo che potrebbe essere veramente molto deleterio se non sapete gestirlo. Quindi pensate che magari io ho fatto questa cosa, mi è successa questa cosa in un progetto che comunque studiavo da diverse settimane, ero già dentro da diverse settimane, e volevo fare un implemento a quello che già avevo. Pensate, per chi ha gli inizi, che vede un progetto che per lui è incredibile, è il progetto della vita, e non può restarne fuori, inizia a comprarne perché ha magari un po' più di disponibilità economica, inizia a comprarli così, e poi è il momento che si brucia tutti i soldi. Quindi questa è la cosa importante da capire. Non dovete entrare in questo loop, perché gli NFT purtroppo, come qualsiasi oggetto che può essere associato anche al collezionismo, perché anche collezionismo per alcune collezioni entri in un loop infinito. Quindi questo, mi raccomando, bisogna sempre rimanere con i piedi per terra ed essere pessimisti. Quindi questo qua è fondamentale. Dopodiché, parliamo, collegandomi a questo discorso qua, dei soldi, ok? Parliamo di questo fatto. Voi non potete entrare nel mondo NFT, intanto magari mi sposto di qua, così si vede meglio, non potete entrare nel mondo NFT se avete ansia dei soldi che stare mettendo dentro, ok? Se voi comprate, io non consiglio di entrare nel mondo NFT sotto il mezzo Ethereum, ok? Quindi il mezzo Ethereum al giorno d'oggi sono 1200 dollari, quello che è. E quindi io non consiglio di entrare nel mondo NFT se non si ha almeno mezzo Ethereum, quindi questi 1500€ che se perdete in questo esatto momento non mi cambia nulla. Quindi potete, per esempio, buttare i soldi, poi ovviamente neanche a me fa piacere, cioè se perdo 500€ comunque mi dà del culo, non è quello il discorso. Però non mi cambia niente nella mia vita, non mi cambia assolutamente nulla. Quello che posso fare, posso continuarlo a fare anche senza 500€, ok? Quindi voi dovete innanzitutto approcciare il mondo NFT con questa consapevolezza, ok? Questo vi aiuterà moltissimo, ragazzi. Non avete fretta di entrare nel mondo NFT, non avete fretta di prendere il progetto perché è quello più incredibile. Non vi servirà a niente. Le opportunità ci sono ogni giorno, continueranno ad esserci sempre di più, sempre più di qualità. Quindi, secondo me, quello che bisogna avere, diciamo, è più di mezzo Ethereum, tra virgolette, da buttare. Passatemi il termine perché non è che voglio dire che lo perderete sicuramente. Voglio dire che probabilmente, magari, può succedere se dagli inizi che lo perdete, come magari l'ho fatto anch'io. Ecco, questa cosa non deve arrecarvi nessun danno emotivo, nessun danno economico. Se voi siete tristi, ok, con questa bellissima immagine che ho fatto, se voi siete tristi, oppure ansiosi anche, cioè, se voi comprate un NFT da 0 a 1 Ethereum e dite, oddio, oddio, lo controllate ogni giorno su a pensi, vedete come va, vedete come sta andando il floor price, vedete come sta, se sale, se scende, appena scende di un millimetro, siete, oddio, con l'ansia, così, è un problema, ok? È un problema, non entrate nel mondo NFT, non fa ancora per voi, ci sta, studiatelo, guardate i miei video, prendete consapevolezza, entrate quando è giusto entrarci, ok? So che magari vi sto scoraggiando molti di voi con questo video perché dicono, eh, vabbè, però, che palle, volevo entrarci nel mondo NFT, adesso Lorenzo mi dice, non posso entrarci senza, che ho, mezzettino da buttare, che cazzo ce l'ha, 1.500 euro da buttare, eccetera, eccetera. Lo so, lo capisco, ma è un consiglio che vi sto dando perché io stesso all'inizio ho perso soldi e vi assicuro che se non potevo permettermi di perderli era un problema, ok? E vi assicuro che c'è tanta possibilità di perdere soldi in questo mondo, d'accordo? Quindi vi sto semplicemente dando un consiglio per voi, per farvi entrare, quando decidete di entrare nel mondo NFT, in modo serio, con meno rischi possibili e soprattutto col giusto approccio mentale, ok? Quindi questa cosa è importante. In generale, in generale, quello che vi voglio dire è non aver fretta di, quindi, cioè, non aver fretta di andare a prendere il progetto NFT, il progetto più bello, quindi di entrare nel mondo NFT, avere questi soldi, tra virgolette, da buttare, ma soprattutto non aver fretta di guadagnare, ok? Questa è la cosa importante, ragazzi, perché nel mondo NFT i migliori progetti in cui sono o in cui sono stato, comunque, sono progetti che hanno richiesto mesi di sviluppo, ok? Soprattutto quelli in cui ci entri magari dall'inizio. Non potete pretendere, cioè, un progetto in NFT, quando nasce, è come una startup, non è più nemmeno, e ve lo posso dire per esperienza proprio che ho, è sulla mia pelle, quindi, è veramente, hanno un milione di complicazioni dietro, un milione di problemi, un milione di cose, gestione, team, decine di persone nel team, un botto di soldi che investi dentro, un botto di responsabilità, quindi vi assicuro che non potete pretendere che un progetto in NFT serio che comprate oggi, settimana prossima il valore è per 10. È molto difficile, ok? Può capitare, ma diciamo di no, è molto difficile. Perché? Perché è un'azienda che deve costruire delle cose e vi richiede del tempo. Quindi se voi avete fretta di guadagnare, non entrate nel mondo NFT. Il mondo NFT non fa per voi se avete questa fretta di guadagnare. Poi ovviamente c'è sempre il discorso del flip, quindi magari prendete un NFT e lo rivendete subito a più prezzo, quello già riduce drasticamente il tempo, ma è anche molto più complicato, diciamo, richiede molta più esperienza e conoscenza avere un approccio del genere. Quindi io, in generale, come primo approccio, vi consiglio di entrare in progetti appunto per il lungo termine, medio-lungo termine, da quando sono nato e di conseguenza quindi non avere minimamente fretta di guadagnare, ok? Concludo dicendo l'ultima cosa sui soldi, ovvero mettere solo i soldi, ok? Molti dicono, ecco, io non sono d'accordo con quello, con la frase che si dice sempre metti solo quello che sei disposto a perdere. Perché io non sono disposto a perdere un cazzo, cioè io non voglio perdere neanche 10 euro, cioè comunque non voglio perdere soldi, perché chi cazzo vuole perdere soldi, ok? Quindi secondo me la frase non ha senso. Secondo me dire metti solo i soldi che sei disposto a perdere ha poco senso. Secondo me è meglio, è molto più intelligente, avere l'approccio di dire metti solo i soldi che non ti servono subito, ok? Questo perché? Perché quando tu entri in un progetto NFT, come l'ho detto adesso, tra l'altro, questo richiede del tempo. Quindi se tu metti dei soldi che dici, ok, io sono disposto a mettere 1500 euro, ok? Sono disposto a mettere 1500 euro, se oggi perdo 1500 euro non mi cambia la vita, però io tra 30 giorni, ok, devo magari pagare le bollette. Devo pagare le bollette, mi servono questi 1500 euro, devo prenderli da qua, perché non ne ho altri, devo prenderli da qua. Ecco, diciamo che se ti servono questi soldi, dopo 30 giorni, non è il caso di spenderli per comprare NFT, ok? Perché? Perché poi va a scaturire tutto quello che abbiamo detto qua, ok? Che vi fa solo perdere soldi. Perché quello che fate quando entrate in un progetto NFT, e ve lo dico per dato certo, iniziate a pensare che quel progetto NFT sia invincibile, che possa solo salire, perché ci siete entrati voi, e quindi avete un bias cognitivo, una concezione della realtà errata, ok? Perché è vostra, soggettiva, dove iniziate a pensare, no, ok, il progetto dell'anno, perfetto, sì, ma tanto sale, quando nella maggior parte dei casi, per non dire sempre, non avete la minima idea di cosa state facendo, ok? Quindi, non fate, mi raccomando, questi errori. Rimate sempre con i piedi per terra, capite che questo è l'approccio, anche a livello monetario, che bisogna avere, secondo me, almeno, mia personal opinione, poi ognuno la può pensare come vuole, per entrare nel mondo NFT. Quindi ragazzi, non mi dilungo oltre, per questo video è tutto, mi raccomando, spero vi sia stato utile, lasciatemi un like, un commento qui sotto, per farvi capire che questi video, vi sono stati utili, così almeno so, appunto, su cosa continuare, a spingere a portare il contenuto qui su YouTube, quindi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, io vi aspetto al prossimo video, che Vitali sia con voi. a spingere a portare il contenuto,